Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Vi ricordo che se avete piacere potete seguirmi su Instagram e che sono attiva anche su Facebook, vi lascio il link nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. A volte l'avidità rompe persino barriere del cuore, che da sempre si considerano indistruttibili, rendendo possibile ciò che fa orrore al solo immaginarlo. Ci troviamo a Merseyside, nel nord-ovest dell'Inghilterra. È la sera di domenica 5 settembre 2004, quando la polizia viene contattata da uno degli abitanti del posto. Un uomo chiede di fare una visita di controllo a casa dei suoi vicini, due coniugi in pensione che vivono a Melling, un tranquillo villaggio del Merseyside. È preoccupato perché non vede la coppia né a sue notizie da un po' di tempo e la posta sta iniziando ad accumularsi sul portico. Ha già bussato alla porta dei vicini un paio di volte per assicurarsi che stessero bene, ma non ha mai ricevuto risposta e non è riuscito a percepire nessuno all'interno della casa. Anzi, da lì proveniva soltanto uno strano rumore, come un ronzio. Alcuni agenti di polizia sopraggiungono e danno un'occhiata, guardano attraverso le finestre e non notano nessuno, ma avvertono anche loro quel ronzio descritto dal vicino di casa e credono provenga dalle mosche che stanno letteralmente infestando l'abitazione. Ma non solo, gli agenti sentono anche un forte e cattivo odore che emana all'interno della dimora. Dato che pure loro non ricevono risposta dai suoi abitanti quando bussano alla porta d'ingresso, la forzano preoccupati per la coppia di pensionati. Così, appena entrati, si trovano immersi in una scena da film horror. Le mosche la fanno da padroni ovunque. Un gigantesco sciame infesta tutta la casa e quell'odore disgustoso percepito dall'esterno ora diventa travolgente e insopportabile. Presto i poliziotti ne intuiscono la provenienza, scoprendo i corpi senza vita dei due coniugi che non si vedevano in giro né si sentivano da settimane. La coppia di pensionati è composta da Sidney Blackwell, di 72 anni, e sua moglie Jacqueline, di 61 anni. Il primo cadavere che gli agenti rinvengono è quello di Sidney, accasciato su una sedia del soggiorno, mentre Jacqueline è riversa sul pavimento del bagno. Entrambi i corpi sono molto decomposti, proprio perché la coppia è morta da diverse settimane e non per cause naturali. Sì, quella casa è proprio una scena del crimine. Sidney e Jacqueline si conoscevano dagli anni Sessanta, erano giovani e si erano incontrati perché entrambi lavoravano alla Little Woods Factory di Liverpool. All'epoca tutti e due erano sposati con altre persone, ma si ipotizza che avessero una cotta l'uno per l'altra. Un'attrazione da ignorare necessariamente, visto che erano impegnati nei propri rispettivi matrimoni, quindi nessuno dei due aveva fatto un passo verso l'altro. Avevano proseguito le loro vite, prendendo strade separate. Poi, circa vent'anni dopo quel loro primo incontro, Sidney aveva divorziato da sua moglie, mentre il matrimonio di Jacqueline era già finito da circa dieci anni. Si erano rincontrate di nuovo, lavorando sempre per la stessa azienda a Liverpool. Sidney era un contabile, mentre Jacqueline un'antiquaria. Era il 1982, Sidney aveva 53 anni, Jacqueline 42, e nonostante fossero passati vent'anni, la chimica e l'attrazione tra loro continuavano a essere presenti. Ora che erano entrambi single, avevano iniziato a frequentarsi, si erano innamorati e desideravano trascorrere il resto della loro vita insieme, formando una famiglia. Così, un paio d'anni dopo, Jacqueline era rimasta incinta e nel 1986 aveva dato alla luce un bambino. Brian Non molto tempo dopo la nascita del figlio, Sidney e Jacqueline si erano sposati. Erano molto felici, adoravano alla follia il loro bimbo e, due anni dopo il parto, la famiglia si era trasferita in un bungalow nel villaggio di Melling. La zona era abitata dalla classe medio-alta, da persone benestanti. Sidney e Jacqueline non erano ricchissimi, ma finanzieramente stabili, agiati. Non conducevano una vita di lussi, ma potevano permettersi di fare delle belle vacanze e spesso andavano in Spagna, dove avevano una seconda casa. La coppia si stava godendo la pensione, senza mai perdere di vista il figlio. Sidney e Jacqueline volevano solo il meglio per Brian. Erano dei genitori molto, molto attenti e spingevano il figlio a dare il massimo a scuola e negli sport. Brian era bravo a giocare a tennis e Sidney e Jacqueline avevano pagato le sue lezioni durante tutta la sua crescita. Lo avevano iscritto in un tennis club perché riconoscevano che era talentuoso e volevano che eccellesse. Ormai, compiuti 18 anni, Brian sta diventando un ottimo giocatore professionista ed è in questo momento, nel 2004, che si verifica il caso di cui stiamo parlando. Oltre a essere un talento nel tennis, Brian è anche uno studente brillante, tanto che i suoi amici e la sua famiglia lo hanno soprannominato Cervellone. Ha frequentato una scuola privata a Liverpool che i suoi genitori hanno pagato 7.000 sterline all'anno, ha conseguito voti molto alti, ha preso 4A negli esami di livello avanzato ed è stato accettato all'Università di Nottingham dove intende studiare medicina poiché vuole diventare un chirurgo. Sidney e Jacqueline erano felicissimi e tanto orgogliosi di Brian, ma ora non possono più godersi né il figlio né la meritata pensione, proprio perché all'inizio di settembre 2004 vengono assassinati. Torniamo quindi a proiettarci nella scena del crimine. C'è sangue sparso ovunque per casa, anche sui muri. La polizia chiama i rinforzi e viene avviata a un'indagine per omicidio. Gli investigatori e le squadre forensi effettuano analisi e rilievi. Come detto, viene stimato che la coppia era deceduta da almeno un paio di settimane. Il processo di decomposizione è alquanto avanzato, tanto che la polizia non riesce a individuare la causa della morte dei due coniugi. L'ipotesi iniziale è quella di diverse ferite d'arma da fuoco, valutando anche l'omicidio suicidio. Forse Sidney aveva ucciso sua moglie e poi si era tolto la vita usando una pistola? Beh, no. Questa teoria viene scartata presto, in quanto si scopre che la coppia è stata picchiata e accoltellata a morte. Entrambi i coniugi hanno subito un trattamento a dir poco brutale. Sidney è stato colpito tra le 30 e le 40 volte con un coltello, principalmente nella parte superiore del corpo. Ha subito anche un grave trauma cranico che evidenzia che era stato ferito alla testa con molta vemenza. Al momento del ritrovamento era accasciato su una sedia del soggiorno, aveva una guida tv aperta sulle ginocchia e teneva i suoi occhiali in mano. Questo fa supporre agli investigatori che Sidney fosse stato aggredito alle spalle e che non avesse avuto nemmeno il tempo di reagire, anche solo per alzarsi dalla sedia. Probabilmente stava guardando la tv o si era addormentato quando gli era stata inflitta la prima ferita. Jacqueline aveva subito ferite simili a quelle di suo marito. Anche lei era stata accoltellata circa 20 volte e colpita alla testa. Il suo cadavere giaceva nel bagno della casa, ma le prove raccolte indicano che anche lei era stata aggredita e uccisa nel salotto, poi era stata trascinata fino al bagno, come evidenziava l'ascia di sangue sul pavimento. L'ispezione della casa non porta a galla l'arma del delitto, quindi l'assassino deve avere con sé il coltello e l'oggetto con cui aveva colpito le teste delle vittime. Si nota però una finestra rotta sul retro della proprietà, un probabile varco di eccesso per l'omicida all'interno della casa. La polizia quindi formula un'altra teoria. Forse si era trattato di una rapina finita male, la famiglia era stata presa di mira in quanto benestante? No. Anche questa teoria viene esclusa rapidamente, perché pare che non sia stato rubato nulla e l'abitazione non versa in uno stato di grande risordine. Ma c'è di più, o di peggio? L'entità delle ferite delle vittime non lascia intendere che loro fossero stati uccise da uno sconosciuto. I coniugi sono stati attaccati con estrema rabbia e violenza, proprio come se l'assassino volesse eliminarli per risolvere una questione personale. Gli investigatori effettuano delle perquisizioni anche all'esterno dell'abitazione e nel giardino individuano un focolare che era stato usato di recente. Ma per bruciare cosa? Non si può affermare con certezza che vi sia una correlazione con il duplice omicidio. Forse lo avevano acceso i Blackwell, ma se l'avesse fatto l'assassino per distruggere delle prove del crimine, la polizia deve indagare più a fondo sulla questione. Intanto parla con i vicini di casa della famiglia Blackwell, chiede loro se avessero visto qualcosa di strano oppure se avessero sentito l'odore del fuoco che ardeva nel giardino accanto. Ma nessuno di loro riesce a fornire qualche informazione utile. Non ricordano nemmeno con esattezza quando avevano visto i coniugi per l'ultima volta. Forse era passato più di un mese. Questo è un dato che alla polizia occorre necessariamente. Deve capire quando la coppia è stata uccisa e non può stabilirlo con precisione tramite l'analisi del patologo perché i cadaveri presentano uno stato di decomposizione troppo avanzato. Viene così coinvolto un entomologo forense, un esperto che studia i cicli vitali degli insetti che si sviluppano sui resti umani in decomposizione utili ai fini di determinare data e causa della morte di coloro che li ospitano. Mentre si aspettano i risultati di questi esami i detective continuano a raccogliere le dichiarazioni dei vicini di casa che hanno visto il figlio della coppia il diciottenne Brian Blackwell più recentemente. I vicini affermano che circa tre settimane prima della scoperta dei due cadaveri Brian si era diretto a casa dei genitori con la sua ragazza ma non era riuscito a entrare. Aveva spiegato ai vicini di aver perso la chiave di casa e presumeva che i suoi genitori fossero andati in vacanza in Spagna. A suo dire li aveva contattati senza successo e siccome non aveva modo di entrare in casa si sarebbe spostato in quella dei genitori della sua fidanzata una ragazza di nome Amal Saba. Queste informazioni in realtà sorprendono la polizia perché nulla suggerisce che Sidney e Jacqueline avessero intenzione di andare in vacanza. In casa non c'erano valigie pronte o biglietti aerei stampati e i coniugi non avevano chiesto ai vicini di annaffiare le loro piante ogni tanto o di tenere d'occhio la loro abitazione come facevano di solito quando partivano. E poi possibile non avessero detto al figlio che avevano intenzione di recarsi in Spagna? È molto strano. Anche se Sidney e Jacqueline si spostavano spesso nella loro seconda casa davvero lo facevano senza avvisare Brian? Questa storia sembra un po' sospetta agli occhi degli investigatori che immaginano sia una bugia. Forse Brian ha qualcosa a che fare con l'omicidio dei suoi genitori? Aveva ideato il racconto della Spagna per coprire le proprie tracce per sembrare inconsapevole quando in realtà sapeva bene dove si trovavano i suoi genitori e che erano morti? Ed ecco che Brian Blackwell diventa rapidamente il sospettato principale di questo duplice omicidio. Gli investigatori vanno a casa della ragazza di Brian perché vogliono parlare con lui ma trovano soltanto la 17enne Amal e la sua famiglia. Riferiscono al nucleo la tragedia cioè che i genitori di Brian sono stati assassinati e la famiglia si mostra scioccata e addolorata per il ragazzo. Una cosa è certa nemmeno per un secondo i familiari di Amal ipotizzano che Brian sia il responsabile di questo orribile crimine. Così gli investigatori rivolgono loro delle domande in particolare ad Amal vogliono sapere di più sulla relazione tra lei e Brian Amal racconta che lei e Brian si erano incontrate a scuola andavano molto d'accordo per cui avevano cominciato a frequentarsi e si erano innamorati sono una coppia affiatata i genitori di Amal sono felici per loro adorano Brian pensano che sia un bravo ragazzo un giovane rispettabile e intelligente che nella vita saprà farsi molta strada d'altronde sta per iniziare a studiare medicina all'università anche Amal è una ragazza in gamba e è in programma di studiare medicina lei è orgogliosa di Brian dice agli investigatori che lui è un ottimo giocatore di tennis così bravo da essere sponsorizzato dal marchio Nike la Nike gli aveva corrisposto ben 70.000 sterline per un accordo di sponsorizzazione perché Brian dovrà gareggiare in diversi tornei di tennis in tutto il mondo e la Nike vuole essere rappresentata da lui in quanto lo valuta come un probabile vincitore inoltre Brian è solito viziare la sua ragazza le ha comprato diversi legali tra cui un'auto un giorno Brian si era fatto accompagnare dalla sua fidanzata Amal in un autosalone perché voleva comprare una Mercedes per sé e ricevere un consiglio da lei mentre erano lì però Amal aveva notato una Porsche che le piaceva un sacco e aveva fatto un commento del tipo wow questa macchina è davvero bella un giorno mi piacerebbe avere un'auto tutta mia allora Brian aveva deciso di comprargliene una non la Porsche Amal non l'avrebbe mai accettata perché sono macchine incredibilmente costose ma le aveva regalato una Ford car rendendo comunque Amal tanto felice e grata Brian le aveva regalato anche alcuni gioielli costosi tanto che la madre di Amal aveva chiesto al genero se potesse fornirle la ricevuta così da utilizzare i gioielli per l'assicurazione della casa ma non è finita qui le aveva regalato pure un biglietto per andare in Florida con lui Brian avrebbe dovuto gareggiare in un torneo di tennis a Miami e voleva chiamarla e lo accompagnasse aveva chiesto il permesso ai suoi genitori e loro avevano consentito la giovane coppia di fidanzati era partita per la Florida la mattina del 26 luglio 2004 circa 6 settimane prima che i genitori di Brian venissero trovati senza vita avevano preso un aereo che li aveva portati a New York per trascorrere lì un paio di giorni prima di ripartire per Miami avevano viaggiato in prima classe e avevano alloggiato all'hotel Plaza nella suite presidenziale serviti dal loro maggiordomo personale questa prima tappa del viaggio era stata indubbiamente costosissima stiamo parlando di migliaia e migliaia di sterline la coppia si era divertita tanto aveva consumato drink e pietanze dispendiosi Adamal sembrava di essere il luna di miele e alla fine i due a Miami non c'erano nemmeno più andati Brian aveva detto ad Amal che il torneo di tennis era stato annullato all'ultimo minuto a causa delle condizioni climatiche avverse così al posto di tornare in Inghilterra erano rimasti a New York ancora per qualche giorno ma non solo dopo il soggiorno nella grande mela Brian ancora non voleva tornare a casa così aveva ugualmente portato Amal in Florida poi si erano spostati alle Barbados e infine a San Francisco durante ogni tappa del viaggio la coppia si divertiva un mondo alloggiava in hotel lussuosi frequentava ristoranti bar e club infine i due fidanzati erano tornati in Inghilterra il 12 agosto 2004 dopo l'arrivo in aeroporto avevano subito preso un taxi per dirigersi a casa dei genitori di Brian e raccontare l'incredibile viaggio è proprio in questa occasione che i vicini di casa li avevano visti Sidney e Jacqueline verranno trovati senza vita circa tre settimane dopo questo momento i vicini erano usciti di casa e avevano notato Brian e Amal sul portico fermi davanti alla porta di casa per un po' di tempo dato che il ragazzo non riusciva a entrare era sprovvisto della chiave e Sidney e Jacqueline non li aprivano allora Brian aveva ipotizzato che i suoi genitori fossero partiti per la loro seconda casa in Spagna noi però sappiamo che in realtà i coniugi erano già morti i loro cadaveri si trovavano all'interno dell'abitazione quando la giovane coppia aveva fatto loro visita dopo questo periodo di tempo i vicini di casa preoccupati hanno contattato la polizia anche per richiedere un controllo sanitario dato lo strano ronzio e l'odore sgradevole che provenivano dalla dimora dei Blackwell intanto Brian era rimasto con Amal a casa dei suoi genitori non troppo distante torniamo al momento in cui la polizia sta dialogando con loro Brian era considerato come uno dei principali sospettati ma Amal spiegando le tempistiche del loro viaggio negli Stati Uniti sembra fornire un alibi al fidanzato perché il periodo coincide con quello in cui si colloca la morte dei coniugi almeno stimata non poteva aver ucciso i genitori mentre si trovava in America quando Brian torna a casa di Amal la polizia è ancora lì così lo fa sedere e gli dà la notizia i suoi genitori sono stati trovati senza vita nella loro casa Brian appare molto turbato ma anche confuso perché sembra davvero convinto che i suoi genitori fossero in Spagna per tutto questo tempo i detective gli fanno alcune domande fino a che Brian dice qualcosa che li lascia sbigottiti chiede improvvisamente se è in prigione faccia freddo come mai? forse perché è consapevole che presto finirà in cella? la polizia deve indagare ulteriormente su di lui Brian è un potenziale sospettato anche se ora non sussistono prove concrete che lo colleghino al duplice omicidio gli agenti riesaminano le prove raccolte sulla scena del crimine e il rapporto dell'esame autoptico del medico legale dal quale emerge che i coniugi Blackwell erano stati accoltellati a morte e colpiti alla testa con un'altra arma forse un martello poi l'entomologo forense che ha studiato gli insetti o meglio in questo spra... oh madonna poi l'entomologo forense che ha studiato gli insetti o almeno in questo caso specifico le mosche presenti in casa e sui corpi delle vittime ha stabilito che erano decedute sei settimane prima rispetto al momento del rinvenimento dunque i cadaveri di Sidney e Jacqueline sono stati scoperti domenica 5 settembre 2004 ma loro erano stati uccisi il 25 luglio 2004 e non a caso la mattina successiva il 26 luglio Brian e la sua fidanzata Amal erano partiti per New York quindi sì l'alibi di Brian crolla perché era in Inghilterra nel momento in cui si è verificato il duplice delitto è davvero lui l'assassino? nel corso delle indagini la polizia parla con gli insegnanti del college che il ragazzo ha frequentato i quali non hanno niente di negativo da dire su di lui è uno studente modello tiene ottimi voti ed è molto molto educato gli insegnanti precisano che è pure molto capace negli sport in particolare nel tennis cosa che la polizia ha già saputo tramite Amal eppure salta fuori che Brian in questa disciplina non è così talentuoso come la gente racconta questo perché il ragazzo ha detto un sacco di bugie sulla sua carriera da tennista Brian è membro di un tennis club chiamato Lone Tennis Association e gli altri soci concordano sul fatto che sia un bravo giocatore ok ma non eccezionale nemmeno si avvicina al livello professionale che sostiene di aver raggiunto Brian ha detto a molte persone compresa la sua ragazza che è considerato il miglior giocatore nella sua associazione di tennis che si piazzava al primo posto mentre in verità non era neanche rientrato nella classifica dei dieci giocatori migliori del club dunque come avrete intuito non partecipava nemmeno a quei celebri tornei di tennis non aveva stipulato nessun contratto di sponsorizzazione con la Nike quindi da dove provenivano quelle 70.000 sterline? come aveva fatto Brian a sostenere tutte quelle spese per impressionare Amal per comprarle una macchina di gioielli costosi? emerge adesso che si trattava solo di bigiotteria anche se Brian aveva detto ad Amal che erano gioielli preziosi non a caso non aveva mai fornito quella ricevuta d'acquisto che la suocera gli aveva chiesto e allora la macchina? e la vacanza extra lusso negli Stati Uniti con quel volo di prima classe? Brian un diciottenne che sta per cominciare l'università aveva speso migliaia e migliaia di sterline ma come le aveva recuperate? quando la polizia effettua dei controlli sulle finanze della famiglia Blackwell si palesa la risposta a questa domanda Brian quei soldi li aveva rubati ai suoi genitori come vi ho detto in precedenza i Blackwell erano benestanti non erano ricchissimi ma godevano di una situazione finanziaria stabile e sicura Sidney e Jacqueline avevano creato un fondo fiduciario per il figlio che lui avrebbe dovuto usare solo durante il periodo universitario tuttavia Brian era riuscito ad accedervi prima era andato in banca e aveva detto all'impiegato che suo padre era morto cosa non vera perché in quel momento Sidney era ancora vivo e vegeto aveva spiegato la sua necessità di accedere al fondo fiduciario per comprare una macchina il suo piano aveva funzionato una volta ottenuto l'accesso al conto Brian l'aveva letteralmente svuotato aveva prelevato circa 10.000 sterline soldi che i suoi genitori avevano risparmiato per anni e anni ma non si era fermato qui perché 10.000 sterline non erano sufficienti per condurre la vita lussuosa che desiderava per sé e per la sua ragazza infatti aveva cercato di ottenere l'accesso anche ai conti bancari dei suoi genitori Brian era incredibilmente riuscito ad accedere anche alle carte di credito di Sidney e Jacqueline prelevando così i loro soldi il punto è che a un certo punto la madre lo aveva scoperto perché era lei che gestiva le finanze della famiglia quindi si era accorta delle uscite derivanti dal suo conto corrente e da quello del marito comprensibilmente si era arrabbiata molto con Brian aveva contattato la banca spiegando che il figlio aveva raccontato soltanto bugie quindi non dovevano più permettergli di accedere sia al suo denaro quello del fondo fiduciario che al conto bancario e alle carte di credito dei due coniugi la polizia ora finalmente comprende il movente di Brian aveva ucciso i suoi genitori per poter spendere liberamente i loro soldi forse il suo furto aveva scatenato una lite con i genitori avevano scoperto come Brian aveva speso quei soldi e lo avevano affrontato ma la discussione era degenerata con Brian che aveva aggredito e ucciso la madre e il padre tuttavia il cadavere di Sidney non presentava segni di lotta come detto era accasciato su una sedia nel soggiorno con la guida tv aperta sulle gambe quindi probabilmente Brian aveva pianificato i suoi assalti in modo molto accurato il ragazzo voleva vendicarsi furioso perché i suoi genitori gli negavano di accedere a qualsiasi fonte di denaro in realtà secondo la polizia intendeva ucciderli anche perché temeva che raccontassero a Damal che lui aveva mentito sul contratto con la Nike Sidney e Jacqueline potevano dirle che quelle 70.000 sterline Brian le aveva sottratte ai conti di famiglia oppure sicché della polizia anche Damal aveva avuto un ruolo nella morte dei coniugi anche se non era presente al momento del duplice omicidio conosceva i piani del suo fidanzato oppure aveva preso la verità dopo i delitti e aveva tenuto questo segreto per sé insomma la polizia crede che Damal sappia più di quanto lascia intendere così la ragazza viene interrogata e messa al corrente delle nuove scoperte dei detective ma lei sembra davvero sconvolta non riesce a credere che quel ragazzo così gentile e amorevole che le aveva promesso il mondo sia un assassino spietato Amal si sente imbarazzata e violata perché Brian l'ha ingannata e non solo a lei i genitori della sua fidanzata i suoi amici e i suoi insegnanti tutti pensavano che Brian fosse un talento fuori dal comune che sarebbe diventato un famoso giocatore di tennis professionista che avrebbe guadagnato tantissimi soldi era ciò che lui faceva credere a tutti loro ma erano solo bugie un generale lavaggio del cervello tornando a Damal la polizia come detto nutriva dei sospetti su di lei ma emerge che la ragazza non sapeva assolutamente niente dei piani di Brian quindi viene esclusa dalle indagini tuttavia la polizia vuole condurre una perquisizione a casa sua visto che Brian ha soggiornato lì nelle settimane precedenti al ritrovamento dei corpi dei suoi genitori la madre e il padre di Amal danno il permesso di ispezionare la loro dimora e gli agenti si concentrano sulla stanza in cui dormiva Brian e sul garage dove il ragazzo aveva sistemato alcune cose personali è proprio perquisendo il garage che trovano una borsa nascosta con cura dal sospettato al suo interno c'è un martello che può corrispondere all'arma con cui secondo il medico legale l'assassino aveva colpito le teste delle vittime il martello osservandolo bene è ancora macchiato di sangue e si rinvengono dei capelli sopra di esso probabilmente appartenuti ai coniugi Blackwell ma dalla borsa emerge anche altro un mazzo di chiavi della casa dei Blackwell chiavi che appartengono proprio a Brian come ricorderete Brian il 12 agosto era tornato dagli Stati Uniti e aveva detto ai suoi vicini di non poter entrare in casa perché aveva smarrito le chiavi e invece le aveva nascoste in quella borsa insieme a un martello insanguinato dopo aver trovato questi oggetti la polizia è certa ora più che mai che Brian è l'assassino ci sono abbastanza prove per arrestarlo e gli inquirenti ne ottingono ulteriori perché due testimoni si fanno avanti dopo aver appreso la notizia di questo crimine al telegiornale hanno delle informazioni su Brian da fornire i due abitano a Kirkby una cittadina che appartiene sempre alla contea di Merseyside è situata a circa due miglia da Melling dove vivevano i Blackwell i testimoni erano stati avvicinati da Brian non molto tempo dopo gli omicidi e lui aveva chiesto loro se fossero disposti a bruciare la casa di uno spaccio i due si erano straniti e avevano rifiutato la proposta poi tempo dopo vedendo apparire Brian al telegiornale avevano collegato era lui il ragazzo che gli aveva fatto quella richiesta bizzarra forse Brian aveva assassinato i genitori e voleva assoldare qualcuno che bruciasse il loro bungalow per evitare che i cadaveri venissero scoperti la supposizione dei due testimoni suona come un'ulteriore conferma dei sospetti della polizia pur trattandosi di prove indiziarie Brian viene dunque arrestato con l'accusa di aver ucciso i suoi genitori e sottoposto a un interrogatorio alla stazione di polizia gli investigatori decidono di usare una tattica specifica per far parlare Brian visto che lui sembra quel tipo di persona che si reputa più scaltro e intelligente di chiunque altro anche dei detective così non gli presentano tutte le prove raccolte contro di lui ma gli chiedono di esporre la sua versione degli eventi del giorno in cui ha ucciso i suoi genitori poi gli domandano perché lo hai fatto ma senza lasciargli intendere che possono inchiodarlo al crimine Brian appare confuso perché nemmeno immaginava che la polizia gli stessa le calcagna convinto di essere così astuto da farla franca siccome non risponde l'investigatore gli ripete la domanda perché hai ucciso i tuoi genitori Brian irrita questa insinuazione e risponde polemico perché mi fate queste domande non dovresti interrogarmi come sospettato ma come testimone si intuisce che il ragazzo non ha alcuna intenzione di arrendersi di confessare certo che la polizia non abbia prove concrete per dichiararlo colpevole ma a questo punto il detective estrae le chiavi di casa dei Blackwell quelle di proprietà di Brian e gliele mostra lui sa bene di averle messe nella borsa nascosta nel garage della casa dei genitori della sua fidanzata dunque è evidente che aveva accesso all'abitazione di Sidney e Jacqueline la polizia fa capire a Brian che sa che lui sta mentendo e ora il comportamento del ragazzo cambia dai nervosito e polemico diventa adirato poi di colpo scoppia a piangere Brian parla con un avvocato riceve da lui qualche consiglio infine si risiede davanti ai detective e fornisce una confessione ammette di aver ucciso sua madre e suo padre ma dice che non si è trattato di omicidio aveva ammazzato i suoi genitori per legittima difesa il ragazzo spiega alla polizia che nel periodo precedente alla morte dei suoi genitori la situazione a casa era tesa c'erano state molte discussioni tra lui e i genitori perché avevano scoperto del furto dei loro soldi ed erano furiosi giustamente ma secondo Brian spesso litigavano anche perché Sidney e Jacqueline non approvavano la sua fidanzata Mal dicevano che lei lo stava allontanando da loro che lo distraeva dai suoi studi inoltre non erano affatto contenti anche per via di un'altra questione correlata Brian era stato accettato in due diverse università per studiare medicina gli era stato offerto un posto alla Nottingham University e uno all'università di Edimburgo i suoi genitori volevano che frequentasse quest'ultima l'università di Edimburgo ma lui preferiva iscriversi alla Nottingham University dove anche a Mal intendeva studiare durante la sera dell'omicidio una di queste discussioni era degenerata molto rapidamente sfociando nello scontro fisico Brian racconta che era nella sua camera da letto stava appendendo alcuni quadri alle pareti ma quando era uscito dalla stanza suo padre Sidney gli si era avvicinato e avevano iniziato a litigare il motivo della lite erano i soldi che Brian aveva rubato a lui e a sua madre accedendo alle carte di credito a loro nome suo padre stando alle parole del ragazzo era stato il primo ad alzare le mani lo aveva afferrato e spinto contro il muro allora Brian aveva reagito aveva colpito Sidney in testa con il martello che aveva ancora in mano usato per appendere i quadri a causa della ferita suo padre era caduto a terra e subito dopo avvertendo tutte quelle grida sua madre era corsa verso la camera stringendo tra le mani un coltello da cucina voleva aggredire il figlio così lui per difendersi aveva colpito anche lei alla testa con quel martello facendola precipitare sul pavimento eppure sempre secondo Brian i suoi genitori nonostante fossero stati tramortiti si erano rialzati lo avevano aggredito di nuovo mentre Sidney lo teneva fermo Jacqueline ancora armata cercava di colpirlo ma Brian era riuscito a sfilarle il coltello dalle mani e aveva iniziato a pugnalarla ripetutamente al petto poi aveva replicato lo stesso attacco implacabile contro il padre nella sua testa c'era solo una gran confusione come se dopo aver commesso il duplice delitto non ricordasse nel dettaglio cosa fosse successo aveva trascinato il corpo del padre fino a disporlo sulla sedia del soggiorno poi quello della madre fino al bagno dove avrebbe provato a rianimarla schizzandole dell'acqua in faccia Brian dice agli investigatori che non sapeva proprio cosa fare era sotto shock perché non immaginava che le persone potessero morire così facilmente allora vorrei dire a Brian che se le ha coltelli venti volte al petto sì che le persone muoiono e non è una sorpresa era indeciso se chiamare un'ambulanza o la polizia insomma non sapeva come gestire la situazione e alla fine non aveva fatto assolutamente nulla aveva lasciato i cadaveri dei suoi genitori dovevano sua madre sul pavimento del bagno o suo padre sulla sedia in soggiorno però prima di andarsene dice che si era seduto accanto a Sidney per parlargli un po' stringendo ancora tra le mani l'arma del delitto anzi aveva ripreso a infilare il coltello nel corpo di suo padre incredulo di quanto fosse facile era rimasto sulla scena del massacro ancora per un po' poi si era recato a casa di Amal il giorno dopo era salito su un aereo diretto a New York con Amal pagando per il viaggio grazie alle carte di credito dei suoi genitori defunti doveva aver erroneamente presunto che al suo ritorno in Inghilterra il 12 agosto i corpi dei suoi genitori sarebbero già stati trovati e invece quando era andato al bungalow aveva scoperto che erano ancora dentro casa in decomposizione lontano dallo sguardo di tutti era tornato là fuori con Amal dicendo a lei e ai vicini che non aveva più le chiavi per accedere all'interno aveva espresso che i suoi genitori fossero andati in Spagna nella casa per le vacanze una storia che considerava credibile questa è la versione dei fatti di Brian aveva ucciso i suoi genitori per legittima difesa ma è la verità? si tratta di un caso di legittima difesa o di un omicidio premeditato commesso a sangue freddo? l'esame di tutte le prove in particolare i risultati dell'autopsia si scontrano con l'ipotesi della legittima difesa infatti il patologo aveva già concluso che Sidney Blackwell era stato aggredito alle spalle entrambe le vittime riportavano una ferita alla testa molto grave dato che erano stati colpiti con un martello ma quella di Sidney si collocava vicino alla parte posteriore della testa sulla nuca è evidente che l'assassino aveva colpito l'uomo da dietro e Sidney molto probabilmente non aveva idea di cosa stava per succedere era intento a guardare la tv quando era stato aggredito anche le altre ferite riportate dalla coppia non indicavano che l'assassino volesse semplicemente difendersi infatti aveva inferto ai genitori un numero elevato di coltellate tra le 30 e le 40 per Sidney e 20 per Jacqueline aveva quindi infierito continuando a massacrarli c'è dell'overkilling in pratica in questo delitto la versione di Brian non ha senso compresa la storia che i genitori dopo aver ricevuto la martellata si fossero rialzati per aggredirlo non ne avrebbero avuto la forza e poi a smentire ulteriormente l'ipotesi della legittima difesa è quel bracere del giardino analizzato dai detective che era stato usato di recente le ceneri ancora contenute nel focolare erano state raccolte e testate ed erano residui di vestiti che indovinate un po' appartenevano proprio a Brian chiaramente aveva indossato quegli indumenti la notte del duplice omicidio e poi li aveva bruciati per eliminare le tracce di sangue di cui sicuramente erano macchiati anche questa mossa doveva essere stata premeditata ecco perché contrasta con la legittima difesa ma c'è un ennesimo elemento che sbugiarda Brian cioè il modo in cui si è comportato dopo gli omicidi durante la sua confessione si definisce sconvolto e incapace di credere a quello che aveva fatto però a chi lo frequentava era apparso come al solito aveva portato la sua ragazza in vacanza dopo aver ucciso i suoi genitori e lei non sospettava assolutamente di nulla perché Brian era di buon umore era stato in grado di comportarsi normalmente nonostante avesse ammazzato brutalmente la madre e il padre ed è davvero così tanto agghiacciante infatti dovete sapere che dopo gli omicidi Brian aveva preso un taxi per raggiungere la casa della sua fidanzata la polizia riesce a rintracciare il guidatore e gli chiede com'era Brian durante il tragitto sembrava turbato l'autista però afferma che il ragazzo non appariva né sconvolto né turbato né tantomeno triste non molto tempo dopo la sua confessione Brian viene accusato di due capi di imputazione per omicidio il suo processo è previsto per inizio luglio del 2005 quasi un anno dopo gli omicidi nel periodo precedente Brian è in contatto con un team di legali i quali sanno che l'imputato non può negare di aver commesso il delitto dato che la polizia ha la sua confessione registrata quando si terrà l'udienza di patteggiamento Brian dovrà dichiararsi colpevole ma la difesa vuole fargli ottenere una pena minima affermando che il ragazzo non può essere ritenuto responsabile delle sue azioni perché non è in grado di intendere di volere prima dell'inizio del processo Brian viene esaminato da numerosi psicologi molti dei quali sostengono che è affetto dal disturbo narcisistico di personalità dunque ha una percezione grandiosa di sé manifesta una mancanza di empatia e avverte un costante bisogno di ammirazione ripone irragionevolmente delle aspettative speciali negli altri come il soddisfacimento immediato dei propri desideri secondo l'opinione di questi psicologi Brian dovrebbe essere condannato per omicidio colposo e durante l'udienza di patteggiamento è questo l'approccio dell'imputato e del suo team difensivo Brian si dichiara colpevole di omicidio colposo perché non responsabile delle sue azioni in quanto affetto da un disturbo della personalità dopo aver ascoltato lo psichiatra la corte accetta questa istanza così nel giugno del 2005 Brian viene condannato all'ergastolo con un minimo di 12 anni di carcere per duplice omicidio colposo nel 2016 in seguito a un'udienza con la commissione per la libertà vigilata Brian viene rilasciato quindi sì è già un uomo libero da anni è rimasto dietro le sbarre per soli 11 anni in realtà in prigione si è comportato da detenuto modello era un membro stimato della biblioteca carceraria online non emergono ulteriori informazioni su di lui quindi non posso dirvi dove viva o cosa stia facendo e soprattutto se magari gli abbiano fornito una nuova identità la gente l'opinione pubblica ha posizioni molto contrastanti sulla condanna di Brian in molti affermano che avrebbe dovuto ricevere una pena più severa mentre altri sostengono che la sua fosse una giusta sentenza considerando il suo disturbo narcisistico di personalità questo è un caso molto triste e come sapete resto sbigottita quando approfondisco crimini compiuti da parenti così stretti Sidney e Jacqueline erano orgogliosi di Brian avevano sempre solo voluto il meglio per lui quindi è straziante pensare che le loro vite sono state interrotte dalla mano del figlio che adoravano e il movente poi e dai li ha uccisi per soldi soldi che peraltro ha usato per fare una vacanza di lusso con la sua fidanzata converrete con me insomma che si tratta di un motivo futile inoltre le parole di Brian non convincono molte persone neanche quando racconta che i genitori non approvavano la sua fidanzata in quanto il rapporto con lei lo stava allontanando da loro onestamente sono più propensa anch'io a credere maggiormente che lui li avesse uccisi perché spinto dalla sua avidità e poi mi lascia perplessa che la banca gli avesse dato accesso al suo fondo fiduciario basandosi solo sulla menzogna di Brian il quale aveva detto all'impiegato che suo padre era morto ma santo cielo non vengono effettuati dei controlli ora chiedo a voi cosa ne pensate di questo caso credete che Brian dovesse passare più tempo in carcere oppure gli 11 anni che ha scontato solo una pena sufficiente a me a fronte del duplice omicidio dei propri genitori sembrano davvero troppo troppo pochi inoltre non ho mai sentito che a qualcuno venisse data una pena meno severa per un disturbo della personalità solitamente queste cose succedono quando ci sono di mezzo patologie psichiatriche come la schizofrenia la psicosi non ho mai trovato un caso che limitasse la responsabilità dell'assassino per un problema di disturbo di personalità in questo caso disturbo narcisistico della personalità quindi niente sono curiosa di sapere che cosa ne pensate voi qual è la vostra opinione su questo caso se lo conoscevate e qual è la vostra opinione sulla condanna di Brian sulla condanna che Brian ha ricevuto insomma sentitevi liberi di esprimere i vostri pensieri le vostre emozioni qui sotto nei commenti fatemi sapere cosa vi ha suscitato questo caso che emozioni avete provato io ovviamente ho provato molta rabbia molta molta rabbia perché non si può ammazzare qualcuno per dei soldi non si può ammazzare i propri genitori per dei soldi io trovo questo caso davvero davvero molto assurdo e triste quindi sono curiosa di sapere anche le vostre opinioni io nel frattempo vi mando un bacione noi ci vediamo prestissimo al prossimo video mi raccomando fate i bravi continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici basta che non facciate nulla di criminale ciao a tutti ciao a tutti Grazie a tutti.